Praticamente abbiamo fatto una scoperta devastante. Sembra che non ci sia protezione dei dati personali sulle macchinette qua a Piazzale Roma del contributo di accesso. Vincenzo Onci, detto Epto, è un esperto informatico, un hacker etico. Racconta di essere stato recentemente contattato da delle signore attraverso il comitato Boulay perché mentre utilizzavano uno dei computer per il contributo di accesso di fronte alla stazione casualmente sarebbero comparsi sullo schermo nominativi e dati di altre persone che si erano registrate. Accedendo la macchinetta, per esempio richiedendo le esenzioni, è possibile ottenere la lista di tutte le altre persone che hanno utilizzato la macchinetta prima senza aver resettato il programma. Non la resetta nessuno, quindi praticamente hai tutte le informazioni di tutte le persone che l'hanno fatto prima di te. E se clicchi su una di queste ottieni nome, cognome, indirizzo di casa, numero di telefono e mail. Accompagnato dall'avvocato Davide Tutino dei radicali resistenti che nelle scorse settimane ha cercato in vano di farsi multare non pagando il ticket, Vincenzo Onci ha ripetuto l'operazione davanti alla stampa. Da hacker etico poco prima aveva resettato il sistema per non vedere alcun dato nello specifico. Tutto è stato segnalato al garante della privacy e alle forze dell'ordine. Puoi anche accedere a tutta la procedura già compilata e richiedere il QR code di un'altra persona con un altro indirizzo e mail, ricevendolo TP, bypassandolo perché ne crei un altro e soprattutto se fai download puoi accedere all'area download e ottenere tutti i QR code che sono stati scaricati anche delle altre persone.